Buonasera e benvenuti in questa terza edizione del TG6 che apriamo parlando dell'assemblea che si è tenuta nel primo pomeriggio al centro ibisco di Marina di Città Sant'Angelo dei balneatori aderenti alle sigle di FIBA, Confesercenti e Sib, Confcommercio un'assemblea nella quale sono state analizzate le problematiche del settore alla vigilia della stagione balneare alla luce delle novità riguardanti la direttiva Bolkestein. Vediamo Vincenzo Lardinelli, presidente nazionale della FIBA Confesercenti, oggi qui a Marina di Città Sant'Angelo ci sono tutti i balneatori d'Italia per parlare di queste problematiche relative al superamento della Bolkestein quali sono gli sbocchi, gli sviluppi di questa situazione? Sì, Città Sant'Angelo ha oggi in qualche maniera dato il suo benvenuto a quella che è una grande manifestazione c'è stata molta gente, una partecipazione forte, è chiaro che le imprese balneari, i balneatori hanno bisogno di più certezze in questo momento vivono momento per momento, sanno tutti che le norme non si possono superare per forza ma siamo convinti di meritare qualcosa di diverso, è un sistema che è stato creato nelle decine di anni quello che anche in queste zone rappresenta oggi è la maggior parte del turismo e noi crediamo, e oggi lo dimostra, anche la partecipazione delle regioni è un altro tassello da mettere insieme per avere delle norme che siano chiare, che possano riportare i balneatori a fare questo lavoro Devo dire che gli interventi dei rappresentanti delle regioni sono stati incisivi, sono stati seri non sono stati tanto per dire cose da far contento all'auditorio, in modo particolare ho apprezzato l'intervento del Presidente della Giunta regionale dell'Abruzzo che ha posto un percorso da affrontare assieme fatto di cose concrete, di persone, di uomini e di responsabilità se noi siamo chiamati ad assumerci le responsabilità noi siamo pronti visto che abbiamo capito fortunatamente che quanto pensiamo noi sia utile salvaguardare il futuro del turismo balneare di conseguenza delle nostre imprese non è solo la nostra idea ma è ampiamente condivisa su valori generali noi non vogliamo né fare lobby né avere dei privilegi vogliamo essere una parte in gioco per far crescere l'economia di questo Paese per difendere il turismo balneare italiano che è una peculiarità che ci è invidiato e che dobbiamo far continuare a crescere e non a decrescere Ed ora parliamo di un problema che è riemerso nelle ultime ore Forza Italia denuncia il rischio pedaggio sull'asse attrezzato Pescarachieti l'allarme arriva da un documento inviato dalla Regione all'amministratore delegato di Strada dei Parchi nel quale si parla di criticità in riferimento alle varianti di tracciato proposte sul territorio Un carteggio tra il governatore della Regione Luciano D'Alfonso e l'amministratore delegato della società di gestione autostrade Cesare Ramadori di Strada dei Parchi fa saltare dalla sedia Forza Italia facendo tornare la preoccupazione circa il destino dell'asse attrezzato Pescarachieti Il rischio è quello del pedaggio Ora ovviamente noi conoscendo un po' questo atteggiamento omissivo sulla documentazione come vediamo l'ipotesi che possa ritornare questo problema ci allarmiamo quindi abbiamo chiesto di poter valutare e di conoscere il contenuto di questo fascicolo perché chiaramente comprenderete che noi che abbiamo fatto ricorso contro la stessa volontà del governo di centrodestra a livello nazionale quando Tremonti introdusse in finanziaria queste ipotesi figuriamoci se oggi possiamo accettare che in una partita di giro tra Anas, Autostrade dei Parchi e Regione possa neanche pensarsi di mettere a pagamento, a pedaggiamento l'asse attrezzato Pescarachieti Se già una battaglia era stata compiuta ai tempi del governo Chiodi il ricorso al Tar che bocciò definitivamente il rischio fu proprio la dimostrazione che la tratta citata non rispondeva alla dicitura e alle caratteristiche di raccordo autostradale e invece nel carteggio intercettato da Forza Italia viene già indicato con questo titolo e il rischio si pone anche per la Teramo Mare L'asse a Tessaro nasce come una strada parallela a scorrimento veloce della Tiburtina e cosa accadrebbe se vi fosse appunto il pedaggio? Che tutti tornerebbero sulla Tiburtina intasando quelli che sono ormai dei centri urbani che si sono sviluppati cioè non esiste, l'ANAS non si può sgravare questa incombenza deve fare la manutenzione sull'asse attrezzato con i soldi delle tasse già versate dai pescaresi, dai chiedini e da tutti coloro che utilizzano questa infrastruttura stradale E a stretto giro di posta è arrivata la replica del governatore della regione Abruzzo Alfonso che nega di aver mai parlato di pedaggi con la società di gestione strada dei parchi Se non fosse per la stima e la simpatia che ho per la combattività dell'onorevole Lorenzo Sospiri direi che è una posizione ad alto tasso alcolico non esiste nei fatti Luciano D'Alfonso smentisce categoricamente tutte le accuse di Forza Italia sul caso pedaggio a sé attrezzato smentisce il carteggio, smentisce la difficoltà dell'ANAS di portare avanti i lavori di manutenzione e annuncia anche qualche diminuzione proprio sui pedaggi Io sto lavorando per la depedagizzazione per esempio sto combattendo con l'autorità di vigilanza autostradale per fare in modo che si depedagizzi in alcuni momenti dell'anno una tratta autostradale sto combattendo affinché in nessuna parte d'Abruzzo si allunghi la percorrenza per arrivare all'infrastruttura autostradale e sto lavorando, convincendo e riuscendoci affinché nei prossimi anni mai più si superi una certa aliquota di aumento del pedaggio per quanto riguarda l'accesso alla nostra autostrada questi sono i fatti il resto diciamo è simpatia alcolica Si parla di difficoltà dell'ANAS come costo di gestione Io qui parlo con tre vesti sono un dipendente riconosciuto dell'ANAS innamorato di questo datore di lavoro ho conoscenza del soggetto gestore della tratta autostradale poi faccio il presente della giunta regionale diciamo che ho tre armi a disposizione per rispondere non esiste C'è un nuovo presidente per la FIRA la finanziaria regionale si tratta di Alessandro Felizi commercialista di Pescara coadiuvato dai consiglieri Concetta Di Luzio e Paolo Di Domizio lo ha deciso proprio l'assemblea dei soci della FIRA che ha proceduto al rinnovo del consiglio di amministrazione della società inoltre è stata confermata la nomina del segretario generale Ruolo che sarà rivestito dall'ex presidente Rocco Micucci che dovrà rendere efficaci le strategie poste in essere dal CdA la prima delibera votata dal nuovo CdA della FIRA prevede la riduzione del compenso per gli amministratori Alessandro Mantini a Francavilla Massimo Desiati a Vasto ed Enrico D'Amico a Lanciano sono questi i candidati a sindaco usciti dalle urne delle primarie del centro-destra che si sono celebrate ieri appunto nei suddetti comuni della provincia di Chieti primarie che nonostante la buona affluenza sono condite da polemiche quelle sollevate dal consigliere regionale Mauro Febbo che accusa il coordinatore provinciale di Forza Italia di Chieti Daniele Damario e Nazario Pagano coordinatore regionale di non aver presentato un candidato forzista per il comune di Francavilla Soddisfazioni per l'affluenza alle urne per Forza Italia alti i numeri delle presenze finalmente sono stati resi noti i nomi dei candidati per le prossime elezioni che interesseranno i comuni di Francavilla Lanciano, Vasto, Roseto degli Abruzzi e Sulmona Per quanto mi riguarda doppia soddisfazione per l'affluenza un numero imponente circa 10.000 elettori di centrodestra che vanno a queste tre primarie per me dicevo doppia perché in questi due anni ho contestato la scelta delle primarie che non si volevano far fare rispetto alla segreteria regionale che diceva che Berlusconi mai avrebbe autorizzato e mi sembra che invece siamo diventati un caso nazionale come noi chiedevamo perché sappiamo che quando non si riesce a avere una sintesi su un unico candidato il centrodestra riesce a perdere anche dove maggioranza invece oggi abbiamo dimostrato di avere candidati unici, forti i numeri hanno dimostrato che abbiamo superato le primarie del centro-sinistra noi non siamo abituati alle primarie quindi sta a significare che a giugno c'è la possibilità di ribaltare un risultato bugiardo quello delle regionali 2014 Nessuna sorpresa sugli eletti sono state rispettate le attese secondo i forzisti ma una sorpresa c'è sottolinea Febbo ed è quella che riguarda il comune di Francavilla che non presenta nessun candidato e la frecciatina è rivolta a due esponenti in particolare per il loro silenzio in merito da un lato Nazario Pagano coordinatore regionale e dall'altro Daniele Damario coordinatore provinciale la sorpresa è che Forza Italia non candida un proprio candidato proprio nella città del coordinatore provinciale questo è qualcosa che qualcuno della segreteria regionale della segreteria provinciale di Chiedi ci deve ancora spiegare Ed ora parliamo della festa dei 100 giorni all'esame di maturità con tantissimi studenti circa 8.000 che si sono recati a Isola del Gran Sasso al santuario di San Gabriele della Dolorata come detto circa 8.000 gli studenti che hanno raggiunto la località andano da tutta la regione nonostante anche le condizioni meteo non particolarmente favorevoli lo hanno fatto con le auto con i mezzi privati ma anche con un centinaio di pullman il resoconto della giornata nel servizio per migliaia di studenti delle scuole superiori è iniziato il countdown definitivo che li porterà davanti ai commissari dell'esame di maturità e a sostenere la prova finale della loro carriera scolastica mancano infatti cento giorni all'esame di maturità 2016 in Abruzzo oltre 8.000 studenti hanno scelto di prendere parte all'appuntamento giunto alla 36esima edizione al santuario di San Gabriele anche quest'anno hanno partecipato alla preghiera alle confessioni alla messa e ovviamente alla benedizione delle penne intanto vediamo cosa avete scritto sulle maglie sei a memoria? masci cazzi degli esami il 14 di marzo torneremo torneremo vittorini con qualcosa di benedetto trionfanti sui cavalli in onore dei nostri professori scritti in rosso il voto che vi aspettate? ma io spero su 75 80 un po' di più sul 90 80-90 40 religiosi passionisti sono stati a disposizione degli studenti per tutta la giornata che rispetto agli ultimi due anni è stata vissuta con grande serenità il 100 giorni degli esami è un appuntamento particolare unico in Italia perché che abbia uno sfondo anche religioso in cui i giovani vengono a San Gabriele spontaneamente liberamente nessuno li costringe neanche a entrare in chiesa è particolare quindi noi siamo contenti di questa tradizione che si va avanti sono contento che come loro sono disposti a vivere questa giornata quest'anno abbiamo scelto come slogan anche della giornata dona la vita come San Gabriele come San Gabriele dona la tua vita e molto particolare dona la tua vita all'interno della misericordia del padre perché quest'anno abbiamo voluto ricordare i ragazzi che il Papa Francesco ci ha indicato di vivere il giubileo della misericordia e perché non ricordarlo anche a loro come ogni anno per evitare incidenti e preservare la sicurezza dei ragazzi le autorità locali hanno messo a punto un piano antidroga e alcol con controlli e presidi su tutta l'area presenti quest'anno anche tre unità cinofile 60 conti fatti ne usciremo soddisfatti come ti senti per gli esami carico questo giorno come lo stai vivendo molto felice che almeno ci siamo arrivati a questo giorno c'è sempre un po' d'ansia presa però una cosa tranquilla lo supereremo lo supereremo siamo ottimisti siamo prontissime siamo nate pronte avete fatto già la benedizione delle penne sì ovviamente sei pronto? sì sono prontissimo le magliette cosa avete scritto? spiega tu vediamo se si capisce lei ha capito questi esami ci mettono F fratto S pressione forza su superficie pressione ok poi io non la leggo così tanto berremo che a dell'hospital finiremo e dell'ospital ok finiamo all'ospital cioè finiamo all'ospital due teoremi di matematica 100 giorni sono tanti ma l'esame che li canti e dietro maturi domani maturandi mai allora in bocca al lupo e cambiamo decisamente pagina una madre premurosa verso il figlio così la pediatra che seguiva il piccolo Francesco Pio Spinelli il bimbo di tre anni travolto da un treno regionale il 24 maggio del 2014 in prossimità della stazione ferroviaria San Marco di Pescara il medico ha deposto davanti alla corte d'assise di Chieti descrivendo il comportamento della mamma del bimbo Loretta De Rosa accusata di abbandono di minore papà e nonno devono rispondere invece di concorso in omicidio colposo inoltre sono stati ascoltati il conducente del treno il capotreno il commissario della polizia ferroviaria Davide Zaccone che ha diretto le indagini tecnici ed altri inquirenti al centro delle testimonianze le presunte responsabilità degli imputati in merito alla mancata vigilanza del bambino e la scarsa cura dei luoghi legata anche alla presenza di un buco lungo la recinzione che affaccia sulla ferrovia e attraverso il quale sarebbe passato il bambino prima di essere investito la corte d'assise presieduta da Geremia Spinello ha aggiornato l'udienza al prossimo 11 luglio in quell'occasione saranno ascoltati altri testimoni niente più barriere per i disabili sui trasporti interregionali la società di trasporti privati Difonso incrementa la sua flotta con due mezzi dotati di pedane e posti riservati a chi viaggia in carrozzina Difonso annuncia una novità nella sua già numerosa flotta di pullman dal mese di aprile infatti 150 mezzi impegnati nelle percorrenze regionali e interregionali verranno affiancati da due mezzi speciali si tratta di Diana e Uranio che renderanno possibili le tratte interregionali verso e da Roma senza barriere sono dotati infatti di pedane per il trasporto disabili una novità che vuole puntare a rompere definitivamente i limiti che troppo spesso incontra chi è costretto su una carrozzina Noi sul territorio ci siamo da tanto tempo e siamo stati sempre piuttosto sensibili a portare in giro con i nostri mezzi il più comodamente possibile tutti i soggetti che si presentavano e chiedevano il servizio l'esigenza di questi due mezzi perché abbiamo avuto tante di quelle richieste da parte specialmente delle scuole delle associazioni di categorie La Difonso rappresenta la più grande società di trasporto privato per la regione Abruzzo la sua storia infatti inizia nel 1945 attualmente sono 160 i lavoratori presenti e questo ulteriore investimento rappresenta l'impegno costante ad offrire il miglior servizio ai passeggeri tenendo in considerazione le esigenze di categorie specifiche che fino ad oggi non avevano facilità di accesso Noi siamo come le formiche difatti siamo partiti da niente e grazie a Dio siamo diciamo i privati più più forti per il momento almeno speriamo di rimanere tali Nel PD Aquilano polemiche e posizioni contrapposte anche su temi strategici per il futuro della città la proposta del presidente della regione D'Alfonso di destinare alcune new town agli studenti universitari ha scatenato un vero e proprio tutti contro tutti vediamo perché è sull'orlo di una crisi di nervi ma per qualcuno il limite è già stato passato il PD Aquilano la crepa aperta dopo il violento litigio verbale tra il presidente della regione D'Alfonso e il consigliere regionale Pietrucci è diventata in poco tempo una voragine dopo le prese di posizione dei vertici democrat del capoluogo che di fatto si sono messi in contrapposizione con il governatore specie dopo la proposta di quest'ultimo di adibire alcune new town a residenze per gli universitari fuori sede un annuncio che non è piaciuto al segretario comunale Stefano Albano né al capogruppo in consiglio comunale Stefano Palumbo che hanno denunciato l'assenza di fronte a tali proposte di dialogo e condivisione stesso discorso vale per il masterplan il megaprogetto per le opere pubbliche abruzzesi che secondo i vertici del PD Aquilano taglierebbe fuori proprio le realtà montane del capoluogo una situazione esplosiva che ha fatto scendere in campo sia il segretario regionale Rapino atteso in città per individuare una soluzione alla crisi del partito sia il vice presidente della giunta regionale Lolli l'ex sottosegretario ne ha avute per tutti a partire proprio da giovani del PD Aquilano invitati a fare più squadra e letteralmente meno pagnistei ma anche a D'Alfonso non le ha mandate a dire affermando che senza il coinvolgimento delle aree interne l'Abruzzo è destinato e anche qui citiamo la lettera a diventare una regionetta una sorta di appendice e fananino di coda delle marche ciliegina sulla torta si fa per dire la divisione di vedute sempre sul futuro di alcuni agglomerati del progetto case tra sindaco Cialente e Stefania Pezzopane con la senatrice che di fatto ha sposato la proposta di destinare alcune new town agli studenti universitari fuori sede l'idea comunque non convince né parte delle opposizioni e fin qui nulla di strano per il famoso gioco delle parti ma anche l'assessore all'assistenza alla popolazione Pelini e lo stesso primo cittadino che intende aprire un confronto con la città Ader e Alzu per capire quale possa essere il destino degli alloggi realizzati dopo il sisma un tutti contro tutti che ha acceso questa coda di inverno mite con la prospettiva dell'elezione del prossimo anno già viva nella mente di molti amministratori anche se non sentirete mai dire il contrario perché le amministrative del 2017 possono sembrare lontane ma politicamente parlando sono realmente dietro l'angolo Montorio al Vomano completa la sua rete di protezione civile grazie all'apertura del distaccamento della Cives di Teramo sede intitolata alla memoria di Mirko Di Lorenzo taglio del nastro per la prima sede della protezione civile a Montorio al Vomano intitolata alla memoria del volontario Mirko Di Lorenzo scomparso prematuramente e aperta grazie alla collaborazione con il gruppo volontari della Cives di Teramo il distaccamento che completa la rete provinciale di protezione civile sarà gestito da volontari del posto che hanno appena concluso il corso di addestramento circa 80 ragazzi giovani e meno giovani che hanno concluso il corso e che sicuramente rappresenteranno un punto di riferimento per le attività che verranno svolte sul territorio dalla protezione civile e un ringraziamento in particolare alla famiglia di Mirko a cui abbiamo intitolato la sede grazie anche al suggerimento e alla volontà espressa dalla Cives provinciale i volontari andranno ad affiancare quelli delle altre associazioni presenti con un sistema che servirà a dare supporto ancora più importante al centro operativo comunale il nostro territorio è un territorio che già soffre un disagio che è quello proprio della geomorfologia che lo costituisce ci sono spesso eventi di diverso genere adesso con la protezione civile Cives di Teramo quindi con il distaccamento aperto a Montorio insieme a tutte le altre associazioni che da anni operano in modo indispensabile sul nostro territorio oggi abbiamo completato quello che è il sistema globale di protezione civile a Montorio per la Cives è un momento importante già operiamo sull'intero territorio della provincia di Teramo e oggi siamo pronti proprio per operare alle porte del parco un punto importante una crescita per la nostra associazione ed ora apriamo la pagina sportiva e lo facciamo con il ciclismo perché è arrivata in Abruzzo oggi la Corsa dei Due Mari la Tirreno Adriatico con la tappa che ha visto l'arrivo in volata a Cepagatti in provincia di Pescara a vincere è stato il belga Van Avermaet che ha anche conquistato la maglia di leader della Tirreno Adriatico anche se è verosimile che l'epilogo per quanto riguarda la classifica generale sarà scritto domani con la cronometro di San Benedetto del Tronto ma vediamo il servizio sulla tappa odierna la terra d'Abruzzo porta bene a Greg Van Avermaet il belga della BMC vince in volata nell'arrivo di Cepagatti superando lo slovacco campione del mondo Peter Sagan della Tinkoff secondo ed il polacco del team Sky Michele Chiatowski terzo e soffia così la maglia azzurra di leader della Tirreno Adriatico al ceco Znedek Stajbar della Etics Quistep il primo italiano è stato Sascha Modolo della Lampre giunto settimo è stato questo l'epilogo del penultimo atto della Corsa dei Due Mari che questo martedì vivrà l'ultimo e decisivo atto con la settima tappa alla cronometro di San Benedetto del Tronto di 10 km la quale darà il volto definitivo alla classifica generale che Van Avermaet guida con 7 secondi di vantaggio su Stajbar e 8 su Sagan la Castella Raimondo Cepagatti di 210 km è stata dunque l'ultima tappa in linea l'unica che ha attraversato l'Abruzzo i corridori sono arrivati dalle Marche percorrendo la Statale 16 e hanno attraversato tutti i comuni del litorale da Martinsicuro a Montesilvano per poi dirigersi a Cappelle sul Tavo Spoltore e infine Cepagatti queste le parole del vincitore e leader della corsa non è mai facile vincere la terreno di conseguenza sono molto contento del risultato odierno è stata una tappa molto impegnativa e sono quindi molto soddisfatto per quanto riguarda domani darò tutto per tenere la maglia azzurra sono molto motivato per la crono anche se non sarà facile per mantenere questo jersey scorso ebbene gli esami hanno presentato questa diagnosi ovvero la lesione del bicipite femorale della coscia sinistra dunque stop per diverse settimane e tra 15 giorni il difensore si sottoporrà a ulteriori esami per verificare l'evoluzione dell'infortunio e chiaramente questo stop lungo per Andrea Coda può riaprire anche la pista che porta al difensore emaliano Suleyman Diamutene che all'inizio della scorsa settimana si è aggregato con il gruppo per svolgere degli allenamenti ora appunto data questa emergenza numerica nel pacchetto arretrato si potrebbe prendere in considerazione anche la firma del difensore che ha già indossato la casacca bianca azzurra nella stagione 2010-2011 parlando sempre del momento difficile della crisi del Pescara ascoltiamo le riflessioni del centrocampista Alessandro Bruno Dobbiamo allenarci con più feroce con più grinta con più volontà dobbiamo dare di più perché solo in questo modo riesci a superare questo periodo non conosco altre medicine se fino adesso abbiamo dato il 100% adesso dobbiamo dare il 150% anche in allenamento non basta il 100% Si parla tanto lo dicono anche alcuni tuoi compagni di mancanza di serenità ma perché il Pescara da qualche settimana non sarebbe più sereno? Ma non è assolutamente vero non siamo sereni non siamo preoccupati però purtroppo ripeto in qualche circostanza pecchiamo di mancanza di attenzione come ha detto il mister è la verità purtroppo noi dobbiamo dobbiamo metterci dobbiamo guarire noi questo male e ripeto l'unica maniera che conosco per risolverlo è solo dare sempre di più in allenamento e poi te lo ritrovi anche il sabato questo è un momento difficile ma dobbiamo essere compatti e ripeto abbiamo le qualità per tornare alla vittoria in qualsiasi partita dobbiamo essere sereni noi tra di noi siamo tranquilli però dobbiamo renderci conto che comunque dobbiamo dare qualcosa in più ripeto in allenamento non è che non lo diamo lo diamo ma evidentemente non basta dobbiamo dare di più in tutte le circostanze e cercheremo e in questo modo sicuramente ne usciremo fuori all'orizzonte c'è questa gara di Crotone domenica all'uscita incontrerete una squadra che reduce dalla sconfitta di Brescia una partita che Pescara dovrà però cercare di non sbagliare sì loro saranno sicuramente arrabbiati ma noi dovremmo essere ancora di più dovremmo andare lì a Crotone a fare una battaglia e dobbiamo prepararci bene per affrontare questa partita perché dobbiamo subito dobbiamo ritornare alla vittoria ripresa degli allenamenti per la Virtus Lanciano dopo l'impresa di sabato a Salerno nella seduta odierna sono rimasti a riposo sia l'attaccante Guido Marilungo per sindrome influenzale sia il difensore Dejan Boldor ancora alle prese con un fastidio al ginocchio lavoro di riatletizzazione per il difensore esterno Simone Salviato che ha saltato le ultime partite proprio a causa di un infortunio scendendo in Lega Pro in Casa Teramo buone notizie sul fronte dei ragazzi del settore giovanile per via delle buone performance del giocatore Riccardo Palestini con la maglia Under 17 della nazionale Under 17 due presenze e una rete nel torneo cittadiarco Beppe Viola torneo internazionale per allievi Palestini promosso anche in prima squadra dove si allenano altri giocatori appunto provenienti dal settore giovanile bianco-rosso altri giocatori dunque che sono a disposizione del tecnico Vivarini che sono il difensore Serrao e i centrocampisti Tini e Troiani centrocampisti proprio come lo stesso Palestini per quanto riguarda la prima squadra le prestazioni in campo della prima squadra dopo lo 0-0 con la Cararese prossimo match ad Arezzo col tecnico Vivarini che può recuperare il difensore Caidi che ha scontato il turno di squalifica ascoltiamo però le riflessioni del difensore capitano Ivan Speranza un'altra positiva per noi per me che sono un difensore fa piacere ovviamente non prendere gol poi stiamo facendo fatica a farli un po' anche di sfortuna oggi perché comunque abbiamo preso un palo in traversa però come stiamo dicendo da un po' questa parte comunque dobbiamo dare una mano come squadra agli attaccanti perché non solo non sono solo loro il problema quindi dobbiamo arrivare come squadra lì davanti per far gol è un'annata così ripeto abbiamo fatto un giro d'andata molto molto altalenante con alti e bassi come dicevi tu giocavamo magari bene in casa fuori facevamo più fatica ma da gennaio un po' abbiamo un pochino cercato di e penso che abbiamo fatto un po' meglio rispetto all'andata però purtroppo è un'annata così noi ci mettiamo tutto per fare ogni domenico una grande partita poi a volte ci si riesce a volte no a volte meno purtroppo questo è il calcio senti a proposito di guai fuori dal campo la Carrarese ne aveva tantissimi ieri è stata dichiarata fallita però in campo non si è visto assolutamente noi sapevamo che comunque è una squadra che cura molto tatticamente le partite quindi e si è vista è una squadra che comunque è una delle poche squadre del girone secondo me gioca a calcio quindi come dicevi tu non sembrava assolutamente che avessero questi problemi comunque molto grandi fuori ed ora parliamo dell'Aquila che ieri è stata sconfitta per 2-0 a Sant'Arcangelo una sconfitta che appunto complica un po' i piani di salvezza diretta della squadra Rosso Blu ascoltiamo le riflessioni del DS Aquilano Alessandro Battisti L'Aquila è già al lavoro per dimenticare la brutta sconfitta con il Sant'Arcangelo e preparare la delicata sfida di sabato al Pisa di Gattuso vice capolista del girone B di Lega Pro gli uomini di Perrone hanno dimostrato di aver accusato il temuto calo di tensione a seguito della riduzione della penalizzazione in classifica nonostante il direttore sportivo Rosso Blu Alessandro Battisti la pensi diversamente un calo di tensione non c'è stato secondo me e soprattutto diciamo che la tensione noi ce l'abbiamo sempre avuta non erano parole vuote quelle che dicevamo da sin dalle st'estate che quest'anno sarebbe stato un anno difficile con grandi difficoltà ma probabilmente qualcuno si era all'uso qualcuno che magari o capisce poco di calcio o fa finta di non capire di calcio io penso che le difficoltà ci sono sempre state e noi siamo stati i primi a saperlo i primi ad esserne consapevoli ma i primi ad essere consapevoli anche che avremmo lavorato tanto per risolverlo stiamo cercando di lavorare è stata una sconfitta pesante una sconfitta secondo me meritata però come vedi oggi siamo già al lavoro per cercare di preparare al meglio una partita difficilissima fatto sta che ora gli aquilani saranno attesi da tre sfide cruciali per determinare il cammino salvezza nell'ordine Pisa Teramo e Maceratese di cui due di queste in casa per sabato contro i toscani di Gattuso il tecnico Perrone potrà contare sul rientro del centrale difensivo Giordano Maccarrone che ha scontato il turno di squalifica potrebbero infine esserci novità sul modulo il 3-4-3 delle ultime uscite non ha convinto e l'allenatore rosso-blu starebbe pensando al ritorno al 3-5-2 per non concedere in ogni partita agli avversari un uomo in più a centrocampo L'ultimo servizio lo dedichiamo al calcio a 5 nello scorso fine settimana si è tenuto il derby del Palaroma tra l'Acqua e Sapone e il Montesilvano una gara che il Montesilvano di Antonio Ricci ha vinto in rimonta per 4-3 dopo essere stato sotto per 2-0 nel servizio ascoltiamo le parole di Paulinho giocatore dell'Acqua e Sapone e proprio dell'allenatore del Montesilvano Ricci io avevo bisogno di un partito così per prendere fiducia da tanti tempi che non segnava che non giocava mi sentiva importante dentro del campo però non bastava io cambiavo tutti i gol per i tre punti perché tu ti va con una sensazione mala per aver perso questa maniera per ora già non possiamo fare nulla dobbiamo rialzare il più presto possibile e già guardare avanti il primo tempo credo ben giocato da tutte e due poi abbiamo avuto un minuto o qualcosa del genere dove abbiamo concesso due occasioni quindi potevamo tra altre cose c'era un tiro libero quindi potevamo veramente crollare invece la squadra è stata brava ha tenuto è entrato con un buon piglio anche il secondo tempo e quindi abbiamo rimesso su una partita bene ho ritrovato il risultato perché il Montesilvano non l'ho mai mai perso tranne il minuto del primo tempo tranne alcune situazioni stava diventando un brutto disco il mio quello che dicevo che giocavamo bene giocavamo bene ma poi le persone cominciano a non crederci più perché non vengono i risultati perché spesso è legato a questo oggi forse è una partita meno brillante da parte nostra addirittura è uscito fuori il risultato il TG6 termina qui domani la prima edizione consueta delle ore 14 io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro una buonanotte per la cortese per la cortese